La difesa della Roma e guardate che ci fanno tornare addirittura nella nostra metà campo per gestire questo pallone. Adriano aggancia i 35 metri, parte da solo A, attenzione, carica a sinistro, il suo tiro! E' gol! 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 Peri media ai 35 metri! La va a mettere là nella collina! Guardate! Prende la mina e dice la tiro là! Dove? Là! Ma dove? Là! Dove si annidano i nemici di dimensione! E' bravo Curci! La tocca anche! Ma c'è poco da fare! Al minuto di cosa! Il sigillo del... Parte Zè, attenzione! Morbido! E' gol! 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 Non è gol! Cosa dice Collina? Dice che è gol! Come non è gol? È 2-0! È l'imperatore! È 2-0! È l'imperatore! Cercavo di capire cosa fosse che fosse, riguardiamolo, il colpo di testa alla grande capocciata di Adriano, al minuto 36, al minuto 36, sono 2-0! Forza ragazzi, al minuto 36, qua questa volta Ferrari c'è...